Anche noi dobbiamo farci vicini soprattutto ai più bisognosi, agli ammalati, ai sofferenti, alle persone che hanno bisogno di Dio, dobbiamo essere trasparenza di Dio, ecco che la nostra presenza rechi conforto, speranza a chi è nel dolore, a chi è nella prova, a chi è solo, a chi è abbandonato. Questo è stato il carisma di questo santo Girolamo Emiliani e noi oggi vogliamo, come già detto all'inizio, porgere i nostri migliori auguri al nostro arcivescovo padre Franco Moscone che appartiene a questa congregazione dei chierici regolari di Somasca di cui tra l'altro è stato per diversi anni superiore generale e a cui è legato affettivamente anche perché è la sua famiglia religiosa e quindi formuliamo i migliori auguri anche a questa congregazione perché continui nella chiesa a mostrare questo volto misericordioso di Cristo, ad essere fedele al carisma del fondatore perché il Signore susciti tra i giovani entusiasti seguaci di questo santo nella via della carità e della misericordia. Sia lodato Gesù Cristo.